Nano Campeggi è stato per decenni il massimo interprete dei sogni di milioni di persone. Con il suo magico tratto di matita, infatti, ha stupito, ha attratto, ha fatto sognare, ha raccontato, prima ancora di vederli sullo schermo, i film di maggior successo degli anni 50 e 60. Quattro cavalli e una donna, forse devono a lui l'immortalità, i cavalli di Ben-Hur e la sensualità di Marilyn Monroe, usciti dal suo magico tratto di matita ed ancora oggi rimasti nell'immaginario collettivo. Tutto questo, ed altro ancora, si ritrova in una grande mostra inedita di ben 80 opere, organizzata per celebrare il percorso artistico di Silvano Campeggi, uno dei grandi contemporanei fiorentini. Un omaggio che l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e la locale Proloco hanno voluto tributare a Nano, a Palazzo Malaspina, nel borgo medievale di San Donato in Poggio. Presente all'inaugurazione, il maestro, festeggiatissimo assieme alla moglie Elena, si è concesso alla stampa rievocando ricordi ed aneddoti della sua lunga carriera iniziata nell'immediato dopoguerra. Quando sono arrivati gli americani con il cinema in Italia, subito dopo la liberazione del 46, sono arrivati prestissimo. Io avevo già disegnato un manifesto, Aquila Nera, un film di Freda, un film che è stato primo degli incassi nel 46, perché mi hanno cercato subito. Noto anche come il pittore delle dive, nella sua attività ha frequentato e immortalato Rita Howard, Ava Gardner, Grace Kelly, Liz Taylor, Marilyn Monroe e tante altre ancora. Non era una grande attrice, era buffa, simpatica, era particolare. Io sono stato alla cittadina dove è nata lei. Devo dire la verità, quando ho saputo che l'ho disegnata, hanno visto e si ricordano dei miei disegni, hanno abitato, siamo stati a cena insieme. E poi è stato pubblicato anche nel giornale della cittadina che ero passato in visita alla città. Da Elisabettero veniva spesso in Italia e quando conobbe mia moglie che aspettava mio figlio, era incinta, gli regalò i suoi vestiti di andare incinta a lei. I primi vestiti, sai di quelli con il buco davanti, che ancora non esistevano qua giù, capito? E ha portato gli abiti di lei, perché eravamo molto amici del direttore della pubblicità della Mezzo Goldi Maier, tanto più che lui è stato il parino di nostre quando ci siamo sposati da parte di Edna. e sicché veniva spesso anche a casa di questo signore. E siccome abbiamo contato e parlato, era una ragazza carina e... Ora ce l'ho qui alle spalle, scopri che dopo sentisse la rifaccia complimenti per forza. Pensate questo disegno, vi fosse quest'altro. Fu stampato grande, come una parete, su fondo rosa, e mi fu sequestrato. A quei tempi era così. Poi se ne pentirono, ma ormai i manifesti li avevano bruciati. Un artista poliedrico che negli anni 70 torna a dedicarsi alla pittura realizzando una serie di quadri conservati oggi al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri a Roma. Nel 1975 il suo ritratto di salvo d'acquisto viene usato dalle poste italiane per un francobollo commemorativo. Negli anni 80 si dedica a quadri della sua Isola d'Elba. Numerose sono le sue retrospettive e mostre, tra le quali una personale a New York sui manifesti cinematografici. Si è dedicato anche alle eroine pucciniane ed ai ritratti di personaggi illustri che hanno avuto un legame con l'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze.